si è sceso sui comuni. Ma io dico la verità, da questo punto di vista sono sincero, ci sono state alcune decisioni prese dal governo innanzitutto, arrivate poi magari direttamente o tramite le prefetture, io sono stato sempre molto comprensivo, perché ti dico questo? Perché fondamentalmente so che cosa significa amministrare e so quali sono le difficoltà, le abbiamo vissute sulla nostra pelle quando giorno dopo giorno uscivano circolari, ordinanze che magari negavano quanto avevano detto il giorno precedente e uscivano magari a tarda notte, eravamo lì, ricorderai benissimo, ad attendere il comunicato delle 10, delle 11 e via discorrendo. Dopo quel comunicato del governo gli amministratori si devono aspettare gli indirizzi della regione piuttosto che della prefettura e via discorrendo. Da questo punto di vista non mi sento di criticare ed andare, certo tante cose col senno di poi si potevano fare meglio, erano perfettibili, però andare a criticare chi ha gestito un momento di così straordinaria emergenza non me la sento perché sarebbe irresponsabile farlo in questo momento. Sindaco, molti in questa era di questi due anni hanno dato in testa molto al governatore della Campania De Luca perché era molto duro nei provvedimenti, non è nello stesso partito, diciamo che prima dove è entrato oggi che poi raccontiamo, però per lei l'ha gestita bene oppure ha fatto come dicono molti terrorismo? Ma non lo so, mi ricollego alla risposta che stavo dando prima. Per me nel momento in cui c'era un dubbio dove si metteva a rischio la sanità pubblica e dove non si sapeva quali potessero essere le conseguenze, abbiamo visto esempi purtroppo drammatici in altre parti d'Italia e quindi quell'essere rigorosi e magari oltremodo rigorosi rispetto a quelle che erano i provvedimenti nazionali, se non ricordo male è proprio di questi giorni, degli ultimi giorni c'è un indice che misurava tra le regioni in base alla loro popolosità e quanto avessero subito danni diversi tipologi di danni da Covid e mi sembra che la regione non fosse messa male rispetto alle altre. Quindi non critico per quanto dicevo prima le scelte fatte, non le ritengo eccessive considerando il fatto che venivano presi in un momento di straordinaria situazione dove magari non si potevano nemmeno ponderare per bene quali potessero essere le conseguenze. Sindaco, chiudiamo Covid, attualmente avete positivi in paese? Allora attualmente purtroppo abbiamo... Facciamo un altro appello... Sì, stiamo registrando un fenomeno particolare, noi non abbiamo mai avuto tanti positivi quanto in questo periodo. è una cosa molto strana. Leggevo l'ultimo dato della piattaforma rispetto ai tamponi fatti ieri... Oggi 1159 se non erro. Com'è? Oggi 1159 in tutta la provincia. Sì, noi a Castelvedere erano 25 positivi in un solo giorno, cioè più della metà dei tamponi effettuati, circa il 60% sono risultati positivi. E quindi è un effetto, è una dinamica molto strana che stiamo registrando perché non abbiamo mai avuto un così rumore elevato di positivi. Cioè da dire una cosa che, vista che la contagiosità di questa variante è molto alta, quindi all'interno dei cluster familiari si contagiano praticamente tutti, per fortuna devo dire che rispetto al passato non si registrano casi, diciamo, gravi, tranne qualche giorno di febbre alto, tuss, sono questi un po' i riscontri che ho al momento. Sindaco, basta. Basta, 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 non ce la faccio più, basta. Sindaco, io in questa trasmissione tocco anche la parte calcistica. Noi abbiamo avuto anche gli amici dell'US Castelvedere, veramente dovevamo venire anche domenica a fare una diretta proprio video in streaming, però purtroppo è uscito un piccolo, un'altra partita un po' più importante, quindi abbiamo dovuto un po' dividere, ma verremo. Situazione camposportiva a Castelvedere, sindaco, non si può vedere più un camposportivo in quelle condizioni. Quindi come state messi? State partecipati? Sono usciti altri bandi della FIGC? Sì, noi allora abbiamo partecipato al bando sport e periferia, purtroppo non siamo riusciti ad accedere perché avevamo presentato un progetto che riguarda il rifiacimento del manto sportivo, insomma del terreno, volendo fare un campo di erbetto perché ormai dalle nostre parti, insomma, forse sono quelli che rendono di meno. Oddio, pur io, un po' di anni fa, dato che amo il calcio e ci giocavo, insomma, mi fa un po' specie dover giocare su erba sintetica a calcio. Abituati alle buche. Il sangue e il fango che avevamo sui nostri campi, però no, a parte gli scherzi, quindi abbiamo candidato a questo bando, purtroppo non siamo riusciti ad entrare a finanziamento, lo stiamo migliorando con il tecnico per poter ricandidare al più presto. Ci sono una serie di difficoltà sugli attuali bandi, quelli in ambito PNRR, perché insomma hanno posto una serie di paletti molto forti, visto che richiedono di dover fare degli accordi con delle federazioni nazionali, insomma qualcosa che mette un po' fuori i piccoli comuni dalla possibilità di accedere a questi finanziamenti. Però chiaramente è un qualche cosa che vogliamo fare. Nel frattempo stiamo a breve e metteremo a gara per un finanziamento che abbiamo riguardo il rifacimento, se sei mai stato al campo di Castelvedere, il rifacimento di tutta la viabilità che porta al campo sportivo, perché là c'è un problema di distesso idrogeologico. Diciamo aggiustate la strada per le macchine ma non per i calciatori. No, 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 è quello invece proprio questo, perché l'accessibilità al campo è messa in discussione proprio dalle attuali condizioni. Quindi fondamentalmente rifacendo quell'arteria, rivedendo... Prendiamo puntecci. Dovremmo, insomma, in qualche maniera ci aiuta. In più a questo progetto qua, la FIGC ha messo in campo nell'ultima settimana, negli ultimi dieci giorni, altri bandi, perché la FIGC si lamenta sempre, che molti bandi tornano indietro, i soldi che vogliono dare tornano indietro. Quindi dateci un'occhiata anche su questa situazione. Su altre strutture che in questi due anni e mezzo da sindaco ha cambiato su Castelvedere? Sempre riguardo allo sport. Un po' in generale, quindi qualcosa di nuovo che c'è. Io manco dal carnevale a Castelvedere, quindi... Dal carnevale 2020, quello che abbiamo dovuto interrompere. Diciamo che uno degli aspetti che purtroppo ha bloccato questa pandemia è quello delle attività che possono riguardare il sociale, quindi tutti gli eventi sul territorio. Perché io sono di un parere. Sicuramente nei nostri piccoli comuni è fondamentale ed importante lavorare sulle infrastrutture, ma se a queste infrastrutture non si dà a seguito nella gestione oppure nella partecipazione del territorio, delle associazioni, resta una letta morta. Magari puoi fare la più bella struttura di questo mondo. Ci vuole la manutenzione. Però se non ci sono le persone che poi partecipano al progetto, la cosa finisce là. Noi in questi anni abbiamo partecipato a tanti bandi. Alcuni siamo riusciti a ottenere il finanziamento, abbiamo fatto degli investimenti sul plesso scolastico, abbiamo rifatto la copertura del plesso scolastico, abbiamo fatto una tettoia davanti al plesso che era un'esigenza molto sentita, abbiamo ottenuto un progetto finanziato per la progettazione dell'efficientamento del plesso, abbiamo partecipato recentemente a tutti i bandi cosiddetti scuola futuri in ambito PNRR perché vorremmo finalmente allargare quelli che sono i servizi collegati al mondo scolastico, cioè palestra, mensa e via discorrendo. Per ora abbiamo avuto finanziata la progettazione anche per una palestra. Stiamo cercando di ottenere i fondi per avere anche la realizzazione perché pensiamo che nei nostri comuni sia fondamentale dare una sicurezza, un'attrazione rispetto a quello che è il mondo della scuola e quindi per le famiglie. Sindaco, entrando un po' sulla questione scuola, molti comuni anche in provincia di Avellino accedono a bandi per alzare nuove strutture scolastiche, ma da qui a dieci anni noi abbiamo la forza ancora di riempire queste scuole? E' proprio questo il concetto. C'erano dei bandi, quelli a cui magari tu facevi riferimento, che permettevano di andare a candidare la realizzazione di nuovi plessi scolastici. Onestamente noi non l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di non partecipare, in quanto andare a fare altro consumo di suolo e a realizzare altra cubatura, laddove oggi, come tu dicevi, noi dobbiamo combattere per tenere piene le aule che già abbiamo. Insomma, non è questo. Noi dobbiamo cercare di migliorare il servizio, ampliarlo rispetto a quello che abbiamo. Non vedo purtroppo l'esigenza in questo momento di realizzare nuove aule. Sì, ma c'è un progetto per portare nuovi residenti sul comune di Castelvedere? Progetto per portare nuovi residenti? Noi stiamo lavorando in bandi che solitamente mettono a disposizione gli immobili comunali. Su questi abbiamo fatto, non abbiamo fatto il cosiddetto bando a un euro, che è stato utilizzato da altri, ma abbiamo ridotto sensibilmente quelli che sono gli immobili messi all'asta da parte del comune. Ci sono una serie di abitazioni che possono essere prese veramente con pochi migliaia di euro da chi volesse acquisirle e poi magari sfruttando, siccome la normativa dei bonus edilizi per chi è un po' dentro la materia, non permette un intervento diretto da parte del comune. Quindi il comune sul proprio patrimonio immobiliare non può agire fruendo di questi bonus. È un po' un controsenso. È un controsenso perché mentre quando è nato all'inizio questo famoso 110 si diceva che sarebbe stato ampliato anche al patrimonio comunale e quindi agli enti pubblici, non è stato fatto evidentemente per problemi di copertura o quant'altro. Stiamo lavorando a vedere come fare perché noi abbiamo un patrimonio comunale abbastanza numeroso, fatto di ex case popolari piuttosto di case acquisite nel tempo da parte del comune e ci dobbiamo intervenire. Allora le strade che stiamo percorrendo sono due in via parallela. una è quella di vedere se c'è qualche privato che volesse acquisirle con prezzi veramente agevolati per poi intervenire direttamente oppure attraverso una serie di... Acquisirle o anche con obbligo di riqualificazione poi dell'immobile, residenza e anche... Beh, diciamo che questa è una conseguenza perché lo stato in cui sono fondamentalmente obbliga alla riqualificazione, quindi acquisirle e tenerle così come sono non sarebbe proprio possibile. L'altra strada che stiamo percorrendo è cercare di... Sempre utilizzando quelle che sono le possibilità della normativa attraverso una serie di società partecipate dal comune cercare di gestire il patrimonio comunale attraverso queste e là il paradosso è che si può accedere a questi finanziamenti. Quindi cercheremo in qualche maniera di riqualificare questo patrimonio. Prima di arrivare un po' sul PNRR perché diciamo che si sta giocando un po' là la partita in Irpina stiamo giocando un'altra partita e è quella dell'alta velocità in Valle Ufita. È una cosa che anche per i comuni distanti può portare sviluppo oppure voi siete strani quindi siete... No, è... Io so che avete anche un problema con l'ofandina che ancora non viene messa in sicurezza. Noi abbiamo sicuramente la zona di Castelvedere, dei paesi del circondario, l'arteria di collegamento e l'ofantina. Quindi fondamentalmente quello che chiediamo e che stiamo continuando a chiedere con altri colleghi sindaci è che venga messa in una condizione di massima operabilità nel senso che attraverso il rifacimento, l'ampliamento in alcune zone dove è prevista si possa superare i problemi che abbiamo vissuto negli ultimi anni di ristringimenti e di lavori sull'ofantina che per noi diventa un collo di bottiglia enorme. È chiaro che per noi è quello fondamentale. Però bisognerà gestire anche aspetti diversi. Io facevo un primo ragionamento. Noi siamo un comune che insieme ad altri vuole spingere su una vocazione turistica. Insomma abbiamo il nostro borgo così come ce l'hanno altri, abbiamo delle iniziative durante l'anno, vorremmo metterle nel circuito del turismo. Però fondamentalmente poi abbiamo momenti in cui, tipo nei fine settimana, nei nostri comuni non sono raggiunti da nessun mezzo pubblico. Cioè nel fine settimana, non so qui a Taurasi, ma... Uno ogni tanto passa. Ok, ma si rischia che la domenica... Non ci sono punti di niente. Ci sia forse uno, due pullman, non lo so, in tutta la giornata. Però immaginando che un turista che arriva dall'estero, piuttosto che dal nord Italia, arriva a Napoli e poi si deve avventurare per Avellino, dove purtroppo sappiamo non c'è un collegamento ferroviario, e poi da Avellino deve arrivare a Castelvedere, come in qualsiasi altro comune, senza un collegamento, diciamo il problema grosso per noi resta il trasporto pubblico. Sindaco, però molti sindaci, molte comunità, molte volte si riempiono la bocca di questo turismo in Irpina. Poi andiamo a vedere i numeri a confronto al turismo che arriva a Salerno, Napoli, perché è l'un, due, tre per cento, quindi è bassissimo. E ancora dobbiamo ammettere altre risorse per... Secondo me, io quando ragiono al contrario, ragiono da turista, se io devo viaggiare con la mia famiglia, con le mie bambine piccole, devo andare da qualche parte, che cosa è che faccio? Vado a verificare, insomma, in quella destinazione come ci arrivo. Ora, a meno che non sia raggiungibile in macchina, e quindi posso decidere di andare a fare un viaggio, diciamo, breve con la famiglia, io devo verificare se ci arrivo con i mezzi pubblici. Quindi l'esempio che facevo prima, se io vado...